La fiducia in pista La fiducia in pista è una cosa fondamentale nella nostra disciplina e penso di potermi fidare al 200% di Matteo e sono sicura che in tutto quello che facciamo lui c'è sempre e cercherà sempre di tenermi in alto e di aiutarmi se ci sono dei problemi. Lo stesso per me, fiducia perché comunque devo sapere di avere dall'altra parte una persona che ci tiene tanto quanto ci tengo io. Quello che tuttora alimenta la mia passione per il pattinaggio è la voglia di migliorarmi ogni volta di più, di oltrepassare i miei limiti e di provare cose sempre nuove. Ogni campione è diverso da un altro. Comunque un campione deve avere come requisito fondamentale l'essere unico. Perché nella vita quando cerchi di essere la coppia di qualcun altro, sarei sempre la brutta coppia di qualcun altro. La caratteristica più bella di Matteo è che è un perfezionista e non è mai soddisfatto completamente di quello che facciamo. Cerca sempre di aggiungere un qualche cosa in più. E secondo me è proprio quello che ci porterà ad andare avanti e raggiungere alti livelli. La caratteristica migliore di Nicole è la sua eleganza, la sua morbidezza. E per diventare unica e migliore nel suo genere potrebbe sempre più valorizzare questa sua espressività. La caratteristica migliore di Matteo